Buongiorno a tutti, adesso vi faccio vedere lo studio che è stato fatto nel laboratorio di genetica dell'ISPRA che lo ha fatto inizialmente come parte del progetto LIFE perché era finalizzato a individuare le aree sorgenti, da dove prende gli animali per poter poi fare le reintroduzioni. Più tardi vedrete molte altre relazioni che vi illustreranno bene la storia del cervo sardo sia la storia appunto delle dimensioni delle popolazioni e anche dell'origine delle popolazioni. Noi adesso qui ci concentriamo soltanto sulla situazione attuale, prendendo però in considerazione alcune caratteristiche. Chiaramente questa è una sottospecie che è presente soltanto in Sardegna e Corsica ed è presente negli allegati 2 e 4 della direttiva Habitat. Questo è importante perché ci ha poi permesso di poter fare un progetto LIFE dedicato a questa specie. Contemporaneamente però nell'ultima versione della ristalorsa dei mammiferi italiani non è stata declassato a less concern, come diceva prima. Questo vuol dire che non necessiti più di una attenta protezione. Questo chiaramente, come diceva santo prima, dipende dal modo in cui vengono interpretati i dati, se i dati sono veramente oggettivi o sono soltanto sospettati. Però questo avremo modo di parlarne in seguito. Invece dal punto di vista genetico è importante la storia delle popolazioni negli ultimi 150 anni. Vedete che da una situazione nel quale era presente, distribuito su tutte le due isole, c'è stata poi una progressiva riduzione. Questa progressiva riduzione ha portato intorno al 1970 alla presenza soltanto di tre nuclei principali. L'affascinante storia di come da questi tre nuclei si sia poi passati a una situazione attuale che verrà raccontata probabilmente domani il dottor Beco, comunque verrà analizzata anche in altre relazioni. Però quello che è importante è vedere che da una grande popolazione con nuclei interconnessi l'uno fra l'altro si è passato a tre piccole popolazioni isolate. Questo è un fenomeno abbastanza noto anche in genetica di popolazione che si chiama appunto l'effetto collo di bottiglia. Cioè gli animali passano da una popolazione abbastanza grande, si riducono e quello che prima erano gli animali che potevano contenere in una bottiglia ora si trovano ad essere ridotti soltanto al collo della bottiglia. E questo ha ovviamente dei riscontri dal punto di vista della generica di popolazione. A questo si deve anche aggiungere che per un altro noto fenomeno della generica di popolazione praticamente le popolazioni presenti in Sardegna derivano da pochi fondatori perché è stato appunto immesso in, come vedremo più tardi, e quindi già è partito da un corredo genetico abbastanza ridotto. Dopodiché c'è stato un amplimento e successivamente è passato attraverso dei colli di bottiglia e questo ha provocato anche una, ci si aspetta appunto che ci sia verificata una erosione genetica. E infatti è proprio quello che noi abbiamo voluto indagare sia per vedere appunto i principali scopi della nostra ricerca con quello di descrivere la variabilità genetica delle popolazioni di cervo sardocorso e confrontare la variabilità genetica fra le popolazioni del cervo europeo, cervo rosso nel continente e nelle due isole. una valutazione del ruolo dei generi funzionali e soprattutto tutto questo dovremmo poi, a meno per quanto mi riguarda, non essendo un generista, per quanto mi riguarda i risultati che possiamo ottenere per poterli poi utilizzare per la conservazione della sottospecie e produrre appunto dei piani di gestione. Quindi per far questo abbiamo campionato tutta una serie di di individui sia in Sardegna sia in Corsica, proprio questo grazie durante il primo anno del progetto Life che è dedicato appunto alle azioni preparatorie tipo la produzione dello studio di fattibilità e l'abbiamo confrontati con individui provenienti dall'Appennino Centro-Settentrionale e dal Parco dello Stedio. Abbiamo poi indagato appunto dei marcatori genetici dell'ideanità microsatellitare e preso in considerazione anche l'ormone della, parte della sequenza dell'ormone della crescita. Questi sono i campioni che abbiamo preso appunto nel, che abbiamo preso sia in Sardegna che in Corsica e come dicevo è stata fatta un'azione soprattutto agli animali o che erano già presenti nelle cinchie di cui si conosceva l'origine oppure animali investiti e recuperati, insomma abbiamo utilizzato diversi metri oppure animali che erano stati catturati in un precedente studio di rintroduzione della specie. Per far questo abbiamo poi, nei laboratori appunto hanno utilizzato, hanno estratto il DNA amplificato e sequenziato e ai risultati che si è ottenuti si è poi applicata un'analisi genetica, un'analisi statistica delle componenti principali e poi successivamente un'analisi discriminante fra i risultati appunto delle analisi delle componenti principali. Per adesso ci concentriamo nella parte in alto a sinistra che è quella dell'analisi dei componenti principali e vediamo già che c'è una distinzione fra le popolazioni della Sardegna e Corsica che sono queste che sono quelle verdi mentre invece questa è appunto la porzione del Stato Corsa che non si sorprende in nessun modo nell'altro gruppo di individui presenti nelle Alpi e nell'Appennino. Successivamente a questi dati estratti appunto con l'analisi dei componenti principali è stata applicata l'analisi discriminante che è riuscita a separare un po' di più gli individui delle Alpi e quelli dell'Appennino mentre invece la separazione non è riuscita fra gli individui della Corsica e della Sardegna. Questo è un risultato ovviamente che ci potevamo aspettare perché se conoscete la storia delle popolazioni vedete che gli individui presenti attualmente in Corsica derivano da reintroduzioni fatte negli anni, alla fine degli anni Ottanta e quindi chiaramente c'è una sovrapposizione di questi individui però quello che è da notare è che non c'è invece alcuna sovrapposizione per quanto riguarda gli individui dell'Appennino e delle Alpi e questo chiaramente e questo chiaramente è importante perché conferma la separazione genetica fra gli esemplari continentali e quelli della Sardegna e della Corsica. Tenere anche presente che gli individui anche se sono separati però gli individui continentali gli individui dell'Appennino derivano praticamente quasi tutti ad eccezione di un picconucleo da individui provenienti dalle Alpi quindi perché c'è stata un'estinzione praticamente anche nelle popolazioni appenniniche del cervo e quindi c'è stato tutta una serie di programmi di reintroduzione e questo ovviamente deve essere venuto in conto quando si analizzano questi dati. Qui per esempio mancano i dati relativi non sono stati presi in considerazione le analisi degli individui provenienti del nucleo della mesola che è quello del che è appunto un nucleo originale non l'unico che sembra rimasto appunto in Italia non alpina. è stata anche una struttura della struttura della popolazione e vedete che anche qui appunto vengono abbastanza separati gli individui della Corsica e della Sardegna rispetto a quello degli Alpi e degli Appennini ovviamente c'è una una sovrapposizione per quanto riguarda Alpi e Appennini mentre invece nessuna pochissima una molto lieve sovrapposizione fra Corsica e Sardegna quindi abbiamo poi analizzato l'ormone della della crescita dove nel cervo si riconoscono due varianti una è la B che è presente in Italia che è presente in tutti gli individui presenti appunto in Italia e in Italia e in Sardegna e in Corsica quello che dobbiamo notare è che per quanto riguarda gli individui sardocorsi sono presenti tre alleli che sono invece mancanti nelle popolazioni continentali quindi anche in questo caso pur nella conformità della variante B dell'ormone della crescita vediamo che gli individui sardocorsi sono differenziati da quelli del continente questo chiaramente sono soltanto i dati preliminari perché proprio da queste prime analisi si sta orientando verso analisi più approfondite però tutto questo conferma appunto una differenziazione anche a livello genetico quindi non soltanto morfologico che riusciamo a vedere ma del cervo sardocorsi l'altro aspetto che abbiamo indagato per quanto riguarda il progetto LIFE che era quello che aveva più ricadute pratiche nelle prime fasi è stato quello di vedere come era questa variabilità all'interno delle popolazioni e questi abbiamo dato dei risultati che abbiamo poi potuto utilizzare per quanto riguarda a meno in parte per quanto riguarda la scelta degli individui e soprattutto ci potranno essere utili per il proseguimento delle attività nel progetto post-life ovviamente abbiamo notato che tutte le popolazioni in Sardegna in Sardegna e in Corsica sono caratterizzate da una elevata omozigosi ricordate la storia praticamente effetto del fondatore all'inizio e poi effetto colo di bottiglia a seguito della riduzione delle popolazioni quindi non ci si poteva aspettare di altro un po' sorprendente ma questo probabilmente è dovuto all'origine dei fondatori del nucleo in Corsica ne ho formato in Corsica alla fine degli anni 80 e che mi mostrava una omozigosi leggermente inferiore rispetto a quello della Sardegna e quindi anche questo va indagato da questi dati praticamente siamo arrivati a delle conclusioni generali uno è che per quanto riguarda il micro satelliti ci hanno utilizzato per riconoscere appieno appunto la validità della sottospecie e chiaramente come dicevo prima proprio partendo dalle promesse della storia delle popolazioni abbiamo conferso è stata confermata la ridotta variabilità genetica delle popolazioni insulari è stata dimostrata anche la presenza dell'unica variante B dell'autipo dell'ormone della crescita però all'interno delle popolazioni appunto stato corso abbiamo trovato tre alleli appunto tipici che non sono presenti nella popolazione continentale e questa è la frase che si mette sempre in tutti gli studi scientifici c'è bisogno di approfondire le ricerche chiaramente non si arriva mai a una conclusione manca la parte del per quanto riguarda le dico comunque voce manca la parte per quanto riguarda la scelta degli individui noi per la come vedremo oggi pomeriggio per la reintroduzione del che abbiamo fatto sia in Oriastra sia in corsi che abbiamo catturato gli individui dalla costa verde a parte un primo rilascio fatto da un recinto da Urzulei però le analisi genetiche ci dicono che per incrementare anche la variabilità genetica delle popolazioni neoformate non soltanto in Corsica ma anche quelli che abbiamo neoformati in Sardegna ci sarebbe bisogno di catturare individui anche da altre aree in particolare dall'area dei Sette Fratelli da punto di vista gestionale questa possibilità è avvantaggiata dal fatto che adesso parte del territorio dei Sette Fratelli di Cade nella provincia del Sud Sardegna così no? e quindi questo all'interno della stessa provincia forse riusciamo a prevedere e ovviamente sempre grazie all'agenzia Forestas di prevedere di effettuare catture anche in altre aree come appunto quella dei Sette Fratelli per poter poi fare il restocking degli individui sempre nelle stesse aree dove abbiamo formato le prime popolazioni io avrei finito le cose le presentazioni